Ciao Santoriani, buongiorno Italia, un bacio ai cittadini del mondo. Da Presidente il 2017 è stato l'anno della casa, l'anno della casa Samp, la dimostrazione più concreta della nostra voglia di fare, le fondamenta del nostro futuro, la gulla dei nostri sogni. Io, voi, noi ci siamo e anche la Samp, i governanti, gli imprenditori, genovesi d'Italia, italiani del mondo, vogliamo fare tutti insieme qualcosa di bello per questa meravigliosa città? A poche ore del nuovo anno il mio augurio è questo, lottiamo per rinnovamento, rimettiamo il piacere del gioco al centro dello sport e che la benedizione di Papa Francesco ci illumini le nostre vite e ci regali la felicità di essere sempre noi stessi come io lo sono con voi. Detto ciò, un grande, immenso, caloroso abbraccio con tutto il cuore, il Presidente. Buon anno!